Oltre 300 aziende presenti, delle principali realtà orafe italiane per un percorso espositivo sviluppato in quattro padiglioni. Continua così il conto alla rovescia per il ritorno in presenza di Oro Arezzo, la manifestazione dedicata alle eccellenze italiane ed internazionali dell'oreficeria, organizzata da IEG ed in programma dal 7 al 10 maggio nei padiglioni dell'Arezzo Fiere Congressi. Giunta alla sua 41esima edizione, Oro Arezzo raccoglie le eccellenze produttive di tutti i distretti orafi italiani ed internazionali, specializzate nella lavorazione di metalli ed elementi preziosi che esprimono il meglio della qualità della manifattura orafa. Oltre 300 i brand espositori, tra cui Raltè Aretine, Comune R, Giardini, Gold Art, Graziella Group, Rich Line e Lusso, presenze importanti anche dal distretto di Vicenza, da quello napoletano e dalla capitale meneghina. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso quattro padiglioni dedicati all'oreficeria, gioielleria, argenteria, semilavorati e pietre. La manifattura orafa rappresenta quasi il 70% dell'offerta, di cui il 15% è internazionale, il tech con sistemi di lavorazione più tecnologici il 18%, mentre il cash and carry, opportunità per le aziende di vendere sul pronto oltre il 12%. L'appuntamento nel cuore del distretto orafa Aretino, che ha registrato una crescita rispetto al livello pre-crisi pari al 23% sul 2019, si rivolge ai principali paesi di sbocco dell'oreficeria Made in Italy, Nord America, Middle East, Sud America, oltre a retail italiani. Grazie. Grazie. Grazie.